Exo Rattix, oggi sono qui a presentarvi questo nuovo arrivo, non ha bisogno di presentazioni, si tratta di Alfa Romeo tonale nella motorizzazione ibrida da 130 cavalli. Allestimento speciale in questo bellissimo rosso Alfa, fari full head matrix. Spostandoci sulla parte laterale troviamo questi fantastici cerchi in lega da 20 pollici in preziosità dalle pinze rosse che vanno appunto a riprendere il colore della vettura. Passando invece sul posteriore troviamo ovviamente sensori di parcheggio, telecamera posteriore, ma diciamo la chicca è appunto il portellone elettrico. Passando invece agli interni troviamo questi fantastici sedili in pelle. Nella parte posteriore troviamo la presa USB di ricarica e le prese appunto per l'aria. Nella parte anteriore invece troviamo dei punti caratteristici di Alfa Romeo, come ad esempio il classico DNA che ci permette di adattare la guida alle nostre esigenze oppure lo start and stop, l'accensione appunto tramite pulsante integrata direttamente nel volante. Questo mezzo in particolare è dotato anche di appunto navigatore satellitare di casa madre e connessione con il mirror link sia via cavo che via bluetooth. Vi ricordo che potete trovare ulteriori informazioni sul nostro sito rattix.com Vi saluto e ci vediamo alla prossima vettura. Vi saluto e ci vediamo alla prossima.